ciao sono fulvio mariola nella precedente lezione avevamo visto come funzionano le if in questo tutorial invece vedremo come inserire i dati da parte dell'utente quindi come noi inseriamo i dati e come ce li mostra il nostro programma mettiamoci subito all'opera come vediamo abbiamo già inserito il nostro metodo main adesso inseriamo una nuova classe da analizzare un nuovo oggetto questo oggetto è l'oggetto scanner scanner input come vediamo qui ci dà una segnalazione un errore e ci dice scanner cannot be resolved to tape cosa significa significa che non riesce a riconoscere che cos'è questo scanner ma scan un oggetto della classe java infatti se mettiamo il mouse su scanner vediamo che lui in effetti ci scrive input scanner java punto util quindi se io clicco qui lui ce lo inserisce al di fuori della nostra classe al di fuori del corpo della nostra classe quindi inserirà una classe di tipo scanner all'interno di un package utile che a sua volta all'interno di un altro più grande package che è java in questo modo che cosa ho creato ho creato input input è una variabile di tipo scanner in questo caso input l'avrebbe dovuto chiamare in qualsiasi modo input pippo pluto e lui di fatto non mi crea nessun errore ci da solo warning perché ancora non è stato definito la mia variabile ma di fatto adesso quello che io chiamerò input non è nient'altro che la variabile dell'oggetto di tipo scanner oltre che al modo che abbiamo visto prima possiamo anche inserire il nostro import premendo contemporaneamente il nostro control shift ed o e vediamo che lui fa la stessa cosa appunto inserisce il nostro import java utile quindi noi cosa sappiamo sappiamo che la classe scanner è sicuramente una classe dell'oggetto java che fa determinate cose adesso definiamo ancora meglio la nostra variabile il nostro oggetto di tipo scanner adesso input non è più una variabile di tipo di primitivo ma è la variabile di un oggetto la variabile di una classe di tipo scanner quindi scanner input uguale new significa che sto creando una nuova classe sempre di tipo scanner apro e chiudo parentesi system punto system è un'altra classe di java e come vediamo è contenuta proprio all'interno di java lang system che significa allora significa che noi inseriamo delle classi che sono contenute all'interno di altri package già di per sé creati nel nostro linguaggio di programmazione java tranne tutte quelle classi che sono all'interno del package java.lang perché quelle sono automaticamente ereditate dal linguaggio di programmazione java tutte le classi invece poi dovremmo inserire classi che ci servono in java oppure classi che aggiungiamo noi manualmente quindi creiamo degli altri package all'interno delle altre classi bisogna esplicitarlo ovvero fare un import di quella determinata classe che farà una certa cosa in questo caso al mio input io ho detto che è un oggetto di tipo scanner continuiamo system punto out punto println inserire una linea di testo spazio adesso creiamo un'altra variabile di tipo string e la chiamo ad esempio linea e gli dico che linea è uguale a input quindi il mio oggetto di tipo scanner punto next come vediamo qui ci da una serie di metodi che noi possiamo inserire ma noi in questo caso ci serve input punto next line punto e virgola quindi gli stiamo dicendo che all'interno dell'oggetto input posso inserire dei dati di tipo next line questo qui è uno dei metodi della classe delle classi java una volta che noi abbiamo fatto un input abbiamo inserito dei dati noi li vogliamo anche stampare e quindi in questo modo facciamo il modo più veloce per fare una sistema system out println che è sys out contro space punto out punto println hai inserito spazio più linea quindi in questo caso sarà un output e scriverò hai inserito tutto quello che io vado a scrivere all'interno di linea salviamo il programma e lo lanciamo il programma viene eseguito correttamente e qui in basso ci scrive inserire una linea di testo noi andiamo qui ad esempio non so il mio nome è fulvio invio e come vediamo in effetti hai inserito il mio nome è fulvio quindi ricapitolando che cosa abbiamo creato senza entrare troppo nei dettagli dettagli li vedremo in seguito ma adesso vediamo quello che facciamo realmente quando stiamo programmando poi ogni cosa verrà dettagliata a suo modo che cosa ho fatto ho creato un oggetto di tipo input quindi dove posso inserire delle informazioni e come le inserisco queste informazioni con il mio metodo in della classe system poi stampo inserire una nuova linea di testo che è come quello che vedo qui in basso quando sto dicendo linea uguale input punto next line ovvero attendo che inserisci dei dati quindi quando lancio il programma mi scriverà inserire una linea di testo inserire una linea di testo e si metterà in attesa che io inserischi ai miei dati ho inserito il mio nome è fulvio nel momento in cui premo invio vado allo step successivo che è appunto l'output di hai inserito ho collegato con il più che nel caso della matematica è un'addizione ma nel caso delle stringhe lo sto allegando al mio hai inserito e il contenuto di linea quello che avevo scritto il mio nome è fulvio adesso è all'interno della mia variabile linea premendo invio vado a stampare proprio linea e hai inserito il mio nome è fulvio vediamo dei nuovi elementi ad esempio vediamo come inserire dei commenti cosa sono dei commenti i commenti non sono nient'altro dei caratteri che io inserisco all'interno del mio codice sorgente ma che essi non vengono letti dal compilatore java quindi io quando creo dei commenti posso scrivere quello che voglio a cosa servono i commenti i commenti servono proprio a definire il programma che io sto facendo adesso il mio programma sono poche righe di codice ma dei programmi molto estesi e molto complessi quando noi andiamo ad analizzare il codice perché dobbiamo trovare un errore o qualsiasi altra cosa dobbiamo sapere che cosa fa quel tipo di oggetto lo possiamo sapere anche analizzandolo certo ma se c'è un riferimento quindi un commento che ci dice quello che fa il nostro programma diciamo che abbiamo un aiuto quindi sappiamo cosa fa questo programma quindi che cosa scrivo nel caso di input metto slash slash quando io scrivo il doppio slash significa che posso inserire una sola riga ed essa non viene letta non viene letta dalla da javac quindi dal compilatore quindi scriverò creazione di un oggetto scanner vado sotto doppio slash output di richiesta quindi in questo caso mi metterò scriverò questo output vado giù e sopra la mia string linea slash 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 attendo per l'inserimento di testo ancora sotto doppio slash stampa inserimento ok come vediamo non c'è stata nessuna modifica salviamo il programma lo lanciamo e in effetti lui avviene normalmente non ci scrive niente di che perché quelle righe lui non le ha lette quindi si scrive ad esempio solo fulvio come vediamo in questo momento sono in attesa quindi sto in questa riga quando premo invio vado alla riga successiva stampa system.out.println quindi ha inserito linea ovvero quello che ho inserito all'interno di linea che in questo caso fulvio vediamo che adesso invece non voglio inserire un testo di caratteri ma magari voglio inserire proprio un numero quindi inserire un numero intero quindi qui cambierò anche il mio commento sempre per aiutare quindi dare una mano a chi analizzerà successivamente il mio codice attendo per l'inserimento di int gli int sarebbero i numeri interi quindi cosa faccio diciamo non lo chiamo più linea perché non è una vera e propria non è un vero e proprio linea di codice ma sarà un valore un valore numerico quindi lo chiamerò valore quindi cambierò valore anche qui adesso però io andrò ad inserire un altro metodo che si metterà in attesa ed inserirà i miei numeri interi ed in effetti l'altro metodo è proprio next control space con control space analizzerò tutti i metodi di scanner e inserirò proprio int come vediamo di int ce ne sono due tipici int senza niente all'interno delle parentesi d'onde invece int dove posso inserire delle parentesi d'onde a noi ci serve questo ha inserito le doppie parentesi noi le cancelliamo perché va in errore è chiaro che va in errore perché mi dice cosa stai facendo mi vuoi mi dici di inserire un numero intero però il mio la mia variabile è di tipo string quindi cambiamo anche il nome della nostra variabile adesso non sarà più una stringa ma sarà un un int quindi eccetera solo valori di tipo intero salviamo lanciamo il programma inserire un numero intero ad esempio 34 hai inserito 34 hai inserito 34 diciamo adesso invece voglio inserire un altro tipo di numero questa volta sarà un tipo di numero con la virgola analizziamo intanto questa cosa se ad esempio io voglio inserire un numero come 34 virgola 5 diciamo che a livello europeo la virgola è fatta proprio con il carattere virgola ma per quanto riguarda il regno unito e per quanto riguarda gli USA diciamo che per loro la virgola è rappresentata da un punto mentre per noi il punto in realtà rappresenta le migliaia non rappresenta una virgola adesso andiamo ad inserire un numero con la virgola quindi inserire un numero con virgola attendo per l'inserimento di un int in questo caso non voglio inserire un int ma inserisco un float quindi dovrò cambiare anche il metodo che vado ad inserire piuttosto che inserire input punto next int inserirò input punto next float salviamo il programma lo lanciamo e andiamo ad inserire ad esempio 23,4 hai inserito 23,4 quindi come vediamo per l'appunto come dicevamo prima lui ha convertito il nostro valore che abbiamo inserito come virgola e l'ha cambiato in punto anche qui cambiamo il commento perché come vediamo prima avevamo scritto attendo per l'inserimento di int in questo caso non è più così quindi attendo per l'inserimento di numero con virgola ok bene come abbiamo visto adesso abbiamo analizzato come inserire i dati se volete avere qualche documento in più qualche informazione in più per quanto riguarda scanner potete andare su google e digitare appunto scanner java e vi appariranno tutte le informazioni che riguardano la classe di tipo scanner oppure se avete un po' più di pratica nella documentazione ufficiale di java come vedrete qui in basso ho messo il link che vi porterà alle API quindi application program interface di java nel prossimo tutorial analizzeremo quello che è il do while che è un'altra variazione di loop quindi un'altra variazione del tipo di ciclo ci vediamo alla prossima lezione ciao 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 ciao